Bentornati su MyFootballGersey. Oggi rivediamo la seconda maglia del Napoli, però questa volta in edizione Player. Prosegue anche per la stagione 2022-2023 la collaborazione di EA7 Emporio Armani. La seconda maglia mostra il medesimo modello di quella casalinga. I colori sono il bianco e molteplici toni di azzurro sulle maniche. Confermati gli sponsor. L'ormai tradizionale lete, in rosso, MSC e Amazon sulle manica sinistra. Transfer sul retrocollo con lettering SSCN. Il 2022-23 sarà caratterizzato ancora da molteplici divise, come conferma il responsabile marketing del creb azzurro. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell'anno. Avevo già visto questa maglia in edizione fan, trovate qui in alto la recensione. Nella mia classifica, vi dico già, è una delle maglie che mi è piaciuta di più, quindi questa prende 4 stelle. Molto bello il tessuto. Volevo rivederla in versione Player per vedere quali erano le differenze e devo dire che non ce ne sono tantissime. Il costo, lo vedete qui sopra, veramente basso per una maglia fatta così bene. Mi piace tanto il tessuto, molti particolari sono simili alla versione Fan, questa è molto più sfiancata, devo dire però bella che se amate questi colori dovete sicuramente avere. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure e la vestibilità. Nel frattempo spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.